3 pere 3 pere allo stad de france che goduria che sto godendo tutt'oggi perdonatemi il ritardissimo ma come già vi dicevo settimana scorsa sono un po un nomade in cui di questi giorni non riesco a fare video immediati non ho la mia location classica quindi sono un po in giro ma comunque ragazzi ieri sera bellissimo goduto 3 4 5 10 volte di più di 50 mila volte al godi di marco godi frattesi ragazzi contro megnano è già clima derby è già clima derby sta francia italia che è già un derby di per sé complimenti de champ lasciare in panchina turam metterlo gli ultimi dieci minuti va benissimo lascia riposo pavaro lascia a casa per me va stra bene va stra bene va benissimo e quindi comunque beh ragazzi non bisogna esaltarsi di questi tali perché comunque potrebbe essere una serata casuale quella di ieri dici beh ha vinto però vediamo poi a lungo andare il prossimo anno cosa succederà però comunque spalletta cambiato modulo cambiato modo di giocare a quanto pare a quanto pare quindi ha capito che col 3 5 2 sembra una cavolata però già cambiare modulo già mettere i giocatori nel loro ruolo è già un'altra cosa e si sono visti i risultati combinazione comunque abbiamo battuto una francia inconcludente tanti campioni messi lì però non non cozzano e noi abbiamo dei giocatori normali e comunque hanno cozzato frattesi ormai il bomber fatese il bomber per me io lo metterei sempre titolare pure con l'inter perché è un centrocampista che va sempre avanti c'è una vista che cerca sempre di segnare quindi è un centrocampista completo a me è sempre piaciuto poi ti fa gol a tutto andare è sempre decisivo anche negli assist anche anche di fare anche doppietta poi beh su di marco non si discute quando è in forma tutti si sono lamentati anche appunto dell'europeo che di marco ha fatto schifo quello ha fatto schifo quello ha fatto schifo ma che spalletti ha messo giocatori che non erano in straforma li ha messi per forza anche se non erano al cento per cento quindi di marco sarà un caso che anche pure gli era segnato però si vede subito quando uno è in forma o quando meno proviamo lì di lorenzo vabbè dopo 15 secondi già subire un gol così che ci puoi dire che ci puoi dire non lo so poi in quel caso lì non mi sento neanche a dargli tutte le colpe a di lorenzo perché comunque evidentemente tutta la squadra non si aspettava questo forcing immediato da parte della francia però comunque secondo me boh di lorenzo messo come terzo di difesa boh non lo so poi con il napoli mi ha giocato in quel ruolo non lo so non mi ha visto come terzino che mai non mi ha messo neanche su questo gran fenomeno cioè l'aveva messo d'armian piuttosto ma ovviamente non è che dici boh sei interista ci mettere tra i migliori di questi di questi di questo periodo quindi chi ci metti comunque va bene così ragazzi va bene così poi ho giocato anche tonali rientrato da l'anno di squalifica vabbè diamo la possibilità la possibilità a tutti poi addirittura ricci del toro insomma ci sperimenta ancora vediamo se questa è il modulo fisso di spalletti se terrà il 352 anche per il prossimo futuro prossimo quindi lunedì contro l'israele speriamo di fare una bella goleata così la differenza reti siamo a posto comunque la nations league è un trofeo è una competizione che non è importante come l'europeo sappiamo che però sinceramente è un trofeo un competizione che io non snobberei mai perché di là che poi anche per il ranking è importante ma comunque ti porta un trofeo in bacheca per quanto valga comunque io non ci sputo non ci sputo assolutamente quindi va bene così ottimo ottimo partire così io ero negativissimo sincero io alla vigilia già pensavo ma pur che ci prendiamo l'imbarcata magari pareggiamo proprio a fortuna invece invece dall'altra parte insomma abbiamo dato una Francia inconcludente fortunatamente è un'Italia comunque più convincente più agguerrita nel cercare il risultato quindi va bene così ragazzi si gode si gode si gode quando si vince con la Francia si gode con qualunque sport e nel calcio il triplo dal 2008 quando vincevamo contro la Francia vabbè poi lì gli anni che sono sono un po' farlocchi perché non è che le incontri sempre la Francia le incontri le amichevoli qualche volta le competizioni ufficiali e lì va a sorteggio quindi proprio poi deve anche passare il turno capitano stesso tabellone nel sorteggio siamo arrivati con i Nations League e li abbiamo mazzuliati in casa loro adesso vediamo se non ci mazzulino loro in casa nostra altri altro periodo ci penseremo poi ragazzi a presto Forza Azzurri perdonatemi l'assenza di questi tempi ma sono un po' sono un po' così quando avrò una casa fatta finita riuscirò ad avere un luogo in cui fare video più normalmente quindi siate fiduciosi a presto ragazzi ancora Forza Azzurri buona domenica iscrivetevi al canale mi raccomando ciao